Buon pomeriggio e benvenuti alla seconda proiezione dei tre film della Biennale College Cinema di quest'anno. Siamo arrivati alla sesta edizione di questa iniziativa che appunto aiuta giovani registi e produttori a sviluppare un lungometraggio con un micro budget nello spazio di dieci mesi. Quindi loro l'anno scorso avevano solo un'idea, un abbozzo di film e adesso stiamo per vedere la pericola realizzata. Questo è lo scopo della Biennale College Cinema che ha ad oggi aiutato più di 60 progetti nello sviluppo e ne abbiamo visti realizzati più di 30. Con me oggi per Deva ci sono Petra Soch, la regista, e Peter Fulop, il produttore. Now, before I give the word to Petra Impeter, I just wanted to briefly say in English, welcome to the sixth edition of Biennale College. Today we are presenting the second film of the three films that we are presenting this year. Biennale College is an initiative launched in 2012 and the idea is to follow teams of young filmmakers from all over the world to develop a micro budget film in 10 months. It's a series of workshops, as I said, we were with Petra and Peter on the San Servolo Island for many days developing their film together and now we're about to see the finished film. So thank you and Petra. So hello and I would like to thank the Biennale College Cinema for this opportunity, the biggest opportunity of my life, so thank you. And I would especially like to thank Alec von Bargen for his, because he helped so much from the beginning until last week. So enjoy the movie and try to look into the eyes of the protagonist. Bye. Ciao, I would also like to thank Biennale and everybody at the Cinema College. And let me please introduce our actresses, because here, they are here sitting in the crowd somewhere. Cenggele is our main actress, please stand up. And we also have Fatma and Boghi sitting next to her. Mille grazie and enjoy the movie. Thank you very much. Voglio solo tradurre quello che hanno ringraziato naturalmente il cast e anche la Biennale College, Petra in particolare e Alec von Bargen e soprattutto Petra ci ha detto mi raccomando cercate di guardare negli occhi la protagonista. Grazie. Applaus Grazie. Grazie. Grazie.